Il territorio del territorio che è una terra che è molto franosa e anche una diagoga recente e quindi sono proposte anche queste modificazioni naturali ordinarie. E quindi, diciamo, che da un lato assistiamo a argini che sono cose più resistenti, con fumare che sono state anche coperte, per esempio via leggino, molte delle settimane sono state coperte non dai privati cittadini, non sono state coperte nello stesso comune o tutte le opere, perché ho visto, per esempio, un poverino che proprio nel lato di una fumara si trovava in una scuola con un liceo scientifico, oppure anche nel lato di Reggio d'Arabria ha coperto letteralmente una fumane, quindi lo stesso tanzi aveva raggiunto la tante sul fatto che il rischio era un rischio notato, perché nei casi in cui stessi si identificano l'esito durante ovviamente un atterraggio, un ricordo di un uomo, quindi si potrebbero identificare anche delle conseguenze che potrebbero portare la vita di volte, di volte di umano. in un uomo che sono fatto con l'unità di Reggio d'Arabria, che era la stessa del studente, che era stata inizialmente progettata e stata proprio costruita sul letto di una fumata. Successivamente la progettazione era il nostro, diciamo, un stand-by, era solo dispercio, fino a qualche anno fa terminare la nuova, io ho detto che ho avuto inizialmente per l'ennesima volta, e quindi adesso il letto di una fumata viva tantissimi ragazzi di sede che per arrivare, per la lettera di una città devono vivere anche più in questa struttura. Quindi diciamo che è il problema che si sviluppa a livello regionale, in qualsiasi dove è caldato, c'è anche un problema in futuro, perché bene che vale i comuni, dentro l'inizio, che sono interessati, non si occupano del problema, nonostante altre esegnazioni che ricevono da parte dei cittadini e da parte dei suoi suoi. Noi abbiamo visto che moltissimi comuni e anche diversi cittadini hanno segnalato, prima degli eventi, la possibilità che in caso di Piozio diventi abbastanza persistenti si vuole essere verificare delle organizzazioni negative per tutta la finanza. Questi fax, queste raccomandate sono rimaste nel vuoto. Questo è quello che manca, manca un collegamento tra i cittadini e le istituzioni. Anche tra le stesse istituzioni che non collaborano, non agiscono per il bene della volentilità. Pensiamo ad esempio alla vicine regionale, che è la raffa rimasto fermo, non ha agito fino all'edificazione degli eventi. C'è quello che si fassi su, cercare di lavorare con l'emergenza. Perché l'emergenza ovviamente fa in modo che si possa poter lavorare tutte le regole, che si possa affidare l'impatto alla ditta degli amici. In questa maniera si possono fare anche lavori che non sono con tanta l'altezza, con dei costi anche, diciamo, più alti. E queste donne hanno in grigianza fatto a creare soltanto politici e appartatori senza scopo. L'abbiamo visto, per esempio, con l'inchiesta ANS, con un ex sottosegretario della Repubblica, con un buon che è questo stando, un ex sottosegretario Vecuri, che praticamente, grazie a questo sistema che avevano usciti a creare, davano dei subapparti dell'ANS, delle ditte, con dei costi, ovviamente, dei gentili cittadini, e adesso vediamo anche, questo è ancora l'allostrato, tantissimi anni, che è arrivato più da età. Quindi è tutto un sistema che si alimenta pian piano e anche vive del fatto che dai cittadini, purtroppo, molto spesso siamo disintestati, presi da altre cose. Quindi ci accorgiamo, e io sto generalizzando ovviamente, perché fa più troppo, perché non fa il problema di essere così, siamo presi da tantissime cose, quando si verifica, perché ci siamo, ci sentiamo economicamente vicini. Però, quello che dobbiamo fare, con l'attenzione del clima, con l'attenzione del clima, è di pretendere che comunque chi dovrebbe, prenda le due precauzioni. Questo non era possibile nel 2015. Noi, subito dopo le emergenze che ci sono state, le continue emergenze calabresi, abbiamo anche avuto la possibilità di parlare con il ministro gallente, al ministro, all'ambiente il quale, dopo varie restaurazioni, ha mandato il ministro del Rio, con le rivolte nazionali, con lo salvo dei luoghi, ci ha detto un'era la reale situazione, perché il problema, loro dicono, che al di là del fatto che il governo nazionale standa sanzitissimo con gli stessi idrogeologici, soprattutto con gli stessi d'Italia, quello che ci hanno detto, le loro pubbligate, è che lì non c'è una programmazione effettiva, quindi non c'è un sistema di prevenzione avanti alla Regione Calabria, non ha quasi nulla di immediatamente cambiabile. Quindi loro, se hanno un budget, hanno delle risorse da poter destinare, le utilizzano per tutte quelle opere che sono in linea della regione. In questo momento c'è una lettera che ci ha scritto il ministro dell'Elettrica, detto questo. Lo Stato risulta che la Regione aveva una richiesta con l'inserimento del sistema telematico ulteriori interventi, articolato sul pareglie di congettazione, che a seguito di istruttori elettrici, che seleziona la luce delle idee del DICM del tutto maggio 2015, va messo da base delle istituzionalità finanziarie e delle priorità diminuate del DICM, potranno essere inseriti nel piano nazionale con il testo di studio geologico. Tra queste richieste di finanziamento, che ammontano progressivamente a circa 276 milioni, segnalse di 182 interventi, pari dalle richieste di 700 milioni o più di quasi modalità, sono a livello di progettazione preliminare, mentre solo 300 progetti presentano il livello di progettazione solitiva. Alcune di che si rimonta di circa 36 milioni di euro. Quindi vedete che in circa 376 milioni potranno finanziarsi per quanto tra i 3 milioni di euro. Quindi cosa manca? Manca a livello regionale una veredetta programmazione. Loro non progettano per tempo quelli che sono gli interventi strutturali che potrebbero essere eseguiti in questi anni, quindi mancando questa progettazione mancano delle opere che siano avanti con la base dell'esecuzione e quindi mancano di finanziamenti. Quindi è tutto un circolo inizioso. Questi dati non si sono dismentiti ovviamente dal governatore a livello, perché corrispondono una verità. E quando Nicola parlava di commissari, commissari e le interventazioni, geologiche e le interventazioni non sono capace di svolgere bene il futuro. Ecco, possiamo andare in una mano. Possiamo cercare di dare una mano soprattutto a chi, qui sul territorio, ovviamente si occupa di questioni che sono anche legati a tutte, prevalentemente all'ambito comunale e provinciale. ovviamente il problema riguarda tutta la calabria. È un problema che purtroppo conosciamo tutti e quello che possiamo fare è appunto vigilare, segnalare, ma soprattutto pretendere i risperimenti produttivi, perché comunque noi paghiamo delle tasse, queste tasse devono essere utilizzate per offrire a tutti dei livelli dei servizi che siano adeguati, anche in questo caso una prevenzione all'ambito psicologico, perché possiamo solo per evitare casi dove la gente perde la vita oppure casi in cui anche se non perde la vita perde tutto per tutto. Poi si perde la casa, si perdono i monti, si perde la macchina, si perde tutto. Questo non è possibile. Nel 2015 noi abbiamo presentato un donamento, penso un po', dove parlerà ancora meglio, una mozione sull'assessi psicologico e quindi noi siamo interessati a questa problematica che è uno dei nostri punti programmatici nel Programma Nazionale dei Deprisi, quando noi lo vediamo, proprio letteralmente, che viene il sistema geologico. Nel Movimento 5 Stelle monta un tempo questa problematica. Concludando, e poi parlerà ancora meglio qua, perché è qualcosa da parlare oggi che non specifico, voglio dirvi che, appunto, quello che possiamo fare è cercare di insistere quindi con il Comune, affinché appunto rinuovano quei tipi che si trovano all'interno di queste fumare e, appunto, non abbandonare ai consiglieri che in questo caso devono lavorare in maniera anche abbastanza solitaria, perché molto spesso, quando si lavora nel Consiglio Comunale, il lavoro da fare è veramente notevole. Ci si trova anche spesso a lavorare alle soli. Questo non è il caso, non è l'unità dell'unità, perché comunque, diciamo, è il gruppo che lavora dietro, però comunque è sempre bene che ci sia una prossima partecipazione per dare supporto a questi ragazzi. Vi ringrazio e lascio la parola. Grazie. Applausi. 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 Mi sentite? Allora, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, vedo se è possibile farvi vedere i dettagli. Ma è che se si sarà un buio che sono un maledice, ci faccio vedere i dettagli. Ecco, no, è perfetto così. Perfetto così. Guarda un po' per destra. Allora, per te come inizio insieme alla travi iniziamo andati a fare questa ispezione. Sono rimasto davvero cercato, ma non tanto per parlare a fondo, per sapere qualche momento di nessuno. perché purtroppo è un'ommagine che si ripete in questo punto alla Galattia. I torrenti vanno curati, vanno costano portati, vanno liberati. E qui si apre, diciamo, una grande parentesi perché chi dovrebbe fare la gestione del fiume, no? Abbiamo le province che, qualcuno dice che sono state abolite, ma in realtà esistono, delle province, se si proponga solo la democrazia, nel senso che non c'è più permesso di votare anche per 50 milioni delle province, le province ancora esistono. E le province ancora non risolvono questi problemi, le strade, i fiumi, eccetera, eccetera. Poi abbiamo in Galattia diversi enti, diversi enti che dovrebbero occuparsi della montazione dei fiumi, abbiamo i consorsi di politica, abbiamo i forestati, abbiamo i consorsi di politica,